Chiudiamo il giro di interventi con una presenza davvero illustre e autorevole, quella del Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Prada, Patrizio Bertelli. Buonasera a tutti. Brevemente, il mio gruppo è costituito di 7.000 persone e 3.500 lavorano in Italia. Noi abbiamo aperto il primo negozio all'estero nel 1983 e poi abbiamo proseguito la politica dell'internazionalizzazione e quindi della cosiddetta globalizzazione. Quindi, credo che il lavoro che abbiamo fatto soprattutto è che il risultato è che c'è un forte attaccamento dei nostri collaboratori al marchio Prada, all'appartenenza e quindi al fatto che le persone sono disponibili anche a trasferirsi all'estero. Noi abbiamo più di 100 persone italiane che lavorano in vari paesi, America, Messico, Europa, Asia, Giappone, Corea. Però vi volevo riallacciare un momento al Celli. Beh, io trovo una cosa. I valori che l'Italia può esprimere per quanto riguarda il motivo di rimanere sono infiniti. Li abbiamo qui davanti tutti il giorno nella piccola e media impresa, nella ricerca, nella capacità imprenditoriale che l'Italia è l'unico Paese che sa esprimere in presa. Dobbiamo ricordarci l'impresa nel senso vero della parola, dell'artigianato che diventa imprenditore e può diventare anche grande impresa. Sono discorso sul fatto sulla dimensione, sono d'accordo. Non vuol dire che quella persona che ha una dimensione grande è più brava di uno che ha una dimensione piccola. Bisogna vedere il valore intrinseco che le persone danno al valore di impresa. Quindi il Celli non ha fatto altro che esprimere un momento di sconforto rispetto a dei fatti che noi viviamo ormai da due anni. Le voglio numerare velocemente così almeno ci chiariamo tutti le idee una volta per tutto. Caso Napoli, la vergogna di vedere l'Italia sui giornali con tonnellate di immondizia gestite dai politici incapaci che ancora sono lì a fare politici che devono essere presi a calci nel sedere. Turismo, siamo esattamente il sesto paese del turismo. Vi dico i numeri. Francia 80 milioni di visitatori, l'America 58, la Spagna 57, la Cina 53 e l'Italia 42. Non possiamo fare turismo quando la malpensa ancora si discute se dobbiamo avere i voli intercontinentali per andare a Pechino, a Hong Kong o in qualche altro paese. Tutti noi dobbiamo andare per orari aeree a Monaco, di Baviera, a Isbruck o a Francoforte, a Parigi e a Londra. Prendiamo un altro esempio ancora. La sanità, l'anzilotto l'ha detto, è una truffa. Bisogna parlare di termini chiari, è una truffa. E io penso che questa truffa possa continuare anche se cadrà questo governo. Quindi è un problema, una malattia endemica. Parliamo di un altro aspetto. Non si può pensare che la politica italiana venga fatta nelle trasmissioni televisive. Porta a porta, Matrix, Ballarò, Exit, 8 e mezzo, l'infedele. Ormai deputati, controdeputati, persone di pensiero parlano della politica. Benissimo. Chiudiamo il Parlamento e facciamo il Parlamento televisivo. Così abbiamo risolto il problema. Ultimo i due fatti più gravi che per me sono in Italia. L'ultimo lo lascio per dopo che vedo che è stato menzionato dal sindaco di Parma. La Fiat. È inammissibile che ancora si parli di finanziare la Fiat. E allora per quale motivo non facciamo la rottamazione di biciclette, di televisori, di elettrodomestici, di qualunque prodotto. È inammissibile che in un Paese democratico si pensa di dare dei finanziamenti alla Fiat per mantenere due milioni e mezzo di lavoratori quando tutta la piccola e media impresa ne ha esattamente cinque volte di più. E perché non utilizziamo questi finanziamenti per fare dei sgravi alla piccola e media impresa? Io non ho parlato per la mia impresa, una grande impresa internazionale. Io parlo delle piccole aziende in cui le persone lavorano esattamente dalla mattina alla sera al sabato e domenica per cercare di portare a casa quel minimo di risparmio che è lo stipendio. Lo stipendio non è uno stipendio, è un lavoro fatto di straordinari e di difficoltà. E per ultimo il caso di Bonner, di ieri l'altro, in cui il nostro Presidente del Consiglio ci ha messo in condizioni scandalose di fronte all'opinione pubblica mondiale. È chiaro e è evidente che l'opinione di tutti noi qui è di un disagio continuo per vedere un'opposizione che non fa opposizione, che non crea condizioni. E la prima domanda che mi ha fatto mio figlio di 21 anni, che fa filosofia, dice ma non c'è uno strumento nella Costituzione per fare l'impeachment del Presidente del Consiglio? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Allora, cosa vuol dire la società civile? Vuol dire la società civile di avere coraggio di rivoluzione, rivoltarsi contro questo Stato di fatti. Io quando ho cominciato a lavorare, noi avevamo le brigate rosse in Italia. Bisogna non dimenticarlo. C'è sempre stato qualche cosa di veramente grave in questa democrazia giovane, ma gli italiani non hanno sempre saputo risolvere con una forza di carattere, con la capacità e soprattutto con l'iniziativa che è propria degli italiani. Quindi, signori, bisogna veramente creare le condizioni per buttare fuori questo signore dal Parlamento italiano. Non è un problema di destra o di sinistra. Se noi disegniamo la nostra politica, la possiamo disegnare come un triangolo equilatero in cui possiamo girare le punte. Si tratta di trovare delle persone che vogliono tutte risolvere problemi che sono abbastanza banali di tutti. Quindi, democrazia e essere liberali. Cosa vuol dire? Parlare di linguaggi che sono plausibili, ovvi. Ho superato il tempo. Finisco subito. Pertanto, credo che questo movimento che sta nascendo oggi non deve essere l'unico movimento. Dovrebbero nascere tanti movimenti. Poi troveranno l'identità, la forza politica, il modo di esprimersi, ma devono essere tanti movimenti che, aggregati insieme, devono dare la forza per modificare globalmente lo stato di fatto in cui viviamo in questo momento. Grazie. Grazie.